Ema, c'è questa stanza? E' buono, perchè? No, ragazzi no Cioè vuol dire no? In che senso? No, no, no ragazzi In questa stanza non la facciamo vedere perchè ci sarà qualcun altro Ma indiviniate nei commenti chi sarà, ok? Molti di voi avranno visto questo video Ma chi sarà mai questo youtuber misterioso? Beh, sono io Low and so! E siamo tutti ragazzi Oggi andremo finalmente a vedere Robi, Jenny, Xiao e gli altri Ovviamente nel nuovo, tra virgolette, chiamiamolo studio Perchè ancora non sappiamo come definirlo esattamente Però posso dire solo una cosa Un gatto bellissimo Insomma, la faremo tantissimi video Quindi mi raccomando, voglio un sacco di pollici in su Ed iscrivetevi al canale Attivate la campanellina per non perdervi nessun video All'interno di questa casa con i miei amici Quello che faremo ora è proprio andarci Perchè mi devo montare tutta la postazione Via! Allora, sono arrivato E guardate, intanto è tutto spento Però ci sono persone che tornano Ora li andiamo a sbagliare Wow, che bello Ma c'è qualcuno Buongiorno Stavi dormendo? Sì, buonanotte Buonanotte, vai a dormire Oh no Col plate Col plate Va Col plate di pan di stelle Va Dormi, dormi Prego Prego Mettiti questo Ciao Ciao È stato un piacere A che ora siete andate a letto? Non lo ricordo Non te lo ricordi Tipo con le 5 Brava, brava Dormi, continua a dormire Io assolutamente non farò casino Non ti preoccupare Ciao, ciao Allora, stiamo entrando da... Sei uccido Ok Ma perché? Sei nudo? No, no Non ci tengo Grazie Non voglio vedere Gli elefanti Grazie, grazie A posto Lui, purtroppo Non ce l'abbiamo fatta Wow Ma che bello Qui Ma tu dormi Con le lucine Che fanno così? Sì Mi piacciono Ah, ti piace Ma come fai a dormire così? Io non dormirei Ho una missione Devo rientire Devo rientire tutta la stanza di sticker Oh mamma mia Ma tu sei pazza Come fai? Sono lì Sulla mia spima mia Eccoli qua Belli Come fai a riempire tutta la stanza di sticker? No, tutta la stanza La stanza di sticker Oh mamma mia Allora Sto salendo un paio di cose Però Qua ci sono Altri Altri deceduti In giro Non ho capito Se sono Dei sacchi Oppure Proprio persone Vabbè Non lo scopriremo mai Allora Le persone si stanno svegliendo Pezzo pezzo E qua Abbiamo Yumi Ciao Ciao Oh no Qua abbiamo Jenny che è decisa A gonfiare I gonfiabili Aiuto Ciao Olaf Ciao Olaf È felice Olaf Ciao Olaf Yeah Bravo Olaf Mio fratello È tutto il mio albero genealogico Allora Si è gonfiato anche Babbo Natale Ed ecco qui Che si alza E sto spingendo Sincero Attacco un renna Ciao 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 Tutto Guarda stavo vedendo I miei mitici gonfiabili Allora apprezzo lo sforzo Però manca la stella Lo dico solo a te Non l'abbiamo detto Nessun video Vai 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 Dimmelo solo a me I segreti di qua È vuoto È vuoto No Scam È tutto Non scam Quante Lorenziste È alta Questa Allora io direi Almeno Almeno Un e mezzo Un Lorenziste E mezzo Esatto Ciao Stiamo portando Gli occhi sopra Che c'è Mi presento Salute a te Ok Ma Come vedete Stiamo preparando Tutto Cioè Stiamo preparando Più o meno Tutto Io sto Cercando di montare Più o meno Io non sono capace A fare queste cose Però potete vedere No Allora La bella addormentata Si è svegliata Sbagliata E faccio vedere qua A che punto sono arrivato Praticamente Mi manca solo da mettere Questo pezzo Lo so In realtà Mi mancano Quattro bulloni Io ho visto Un video Dove tu avviti Guarda Guarda Vediamo Aspetta Com'è che si fa Già fatto Ok Mi raccomando Tutti sotto Nei commenti Roby L'aggiusta Tutto Roby Tutto Fa Esatto Lo sa che Tipo Come Delino Aspetta Jenny Non ce la fa Mentre la sua Sfina Posa con la mia E la sua E la sua E la sua Era un inferno Vabbè Ma questa Com'è facile È simile a quella Di Jenny Oh mamma mia Ok Momento pausa Pranzo Non vi faccio vedere Perché Top secret Solo alla fine Del video Ma intanto Qua Wow Hey Nonnino Io sono un vecchietto Nonnino Ciao Che sta giocando A fifa Mamma mia Che televisione enorme Vediamo qua Cosa c'è Sushi E questo è il nostro tavolo Che ovviamente Ci potevamo Prendere una tv così E la playstation Però Purtroppo il tavolo È tavolo Non c'erano i soldi Purtroppo Ho la televisione Nel tavolo Allora Com'è questo sushi C'è mango Allora in questo momento Roby Mi sta facendo Una scritta Vedete qualcosa Ti sto rovinando Allora In realtà c'è Se più ti avvicini Più la vedi Ok fammi vedere Vero Hai ragione Quindi questo è un quadro Che va visto Da lontano o da vicino Da lontano sei meglio eh Non è vero Non è vero Vabbè Sta venendo una roba simile Faccio vedere Teoricamente Dovrebbe venire così Fatta in arancione Vediamo L'artista in questione È Roby Poi Roby Ti devi mettere la firma Praticamente Eh sì Però Non so che bello Allora in questo momento Sta facendo il fulmine Ma Dimmi una cosa Ma se unisco i puntini Sì Faccio la scritta Faccio la scritta Esatto Ok 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 attualmente Questa è come sta avvenendo La postazione Provvisoriamente Si dovrebbe tutta riempire Ma Lo vedrete Non vi preoccupate Di pennarelli Esatto Di pennarelli Questi sono tutti suoi E insomma Ancora si deve montare la porta Qua ci dovrebbe essere Una tenda per coprire E Oltre alla scritta Sicuramente ci appenderò qualcosa Lo vedrete sempre Non so se in questo video O più avanti Non lo so Vediamo e nulla Passiamo alla prossima cosa Allora un attimo di pausa Lei si è fidata talmente tanto di me Alla guida Che Volevo dire Ma io sono venuta già un'altra con te Sei brava a guidare Oh grazie Ci schiettavo Qua ci hanno abbandonato Stanno facendo gruppetto No non si fanno questi gesti Non si fanno Riprendi Ma non possiamo Si femmili Va bene Poi vi faccio vedere Altre cose Ciao Ok siamo Siamo tornati dopo Una bella cena Qua c'è Ciao Ciao Qua c'è Jenny Là ci sono Quei due che giocano Va bene Ok A chi piappi giocano Esatto Niente ragazzi Io vi devo chiedere solo una cosa Allora io ho preso una sedia da gaming Dovete dare un aggettivo particolare a questa sedia Ok Quindi dobbiamo vederla Si Vai Ok Dai Aspetta aspetta Allora io la metto qua Ok Io la metto qua Allora molto bella Ok Allora dovete dare un aggettivo Uno Un aggettivo Molto comoda Ok lei è comoda Stilosa E' molto bella il colore Stilosa Poi Angela Bella No bedda Bedda proprio in Fosporescente Fosporescente Diciamo è giubbino Il giubbino dei ciclisti Jenny invece Ok Per me è saturata Saturata È colorissima Invece per te Lore Che cosa va Per me è San Benedetto Ci sta se non accordo Ragazzi Rieccomi qua Allora non c'è praticamente più nessuno Perché sono tutti saliti a Milano Però eccovi la mia stanza Ve la faccio vedere E voilà Aspetta ve la faccio vedere meglio Allora come potete vedere questa è la mia postazione attuale E qua c'è la scritta Lorenzist Che ancora dobbiamo benissimo colorare Ho un sacco di robe da mettere Ho i pannelli forno assorbenti Ancora da mettere su tutta questa parete Devo montare questa specie di cassettiera Qua c'è un bellissimo monopoli che tra l'altro ci hanno inviato ed è stupendo Qua ci sono dei pannelli forno assorbenti messi ad asciugare Però c'è Volete mettere un passo alla volta ragazzi Un passo alla volta Ah e qua c'è un enorme tappeto Faremo tante cose qua dentro Tantissime cose E ovviamente ho portato il mio pingu E niente ragazzi Io direi che il video di oggi lo posso anche concludere qua Spero tantissimo che vi sia piaciuto per nulla Iscrivetevi al canale Se non l'è ancora una volta Lascia il sacco di pollicini in su E mi raccomando Scrivetevi tutti sotto nei commenti Forzalone Noi ci vediamo ad un prossimo video E Ciao